Il quale è arrivato alla quale è arrivato? Sì, siamo felici, abbiamo una grande combattia. Abbiamo preso il limite di oggi. Io e la squadra abbiamo molti momenti di action, ma tutto va bene con noi. Cosa pensate, quando hai scoperto i due minuti di penalti per Nasser? Sì, certo, perché non è vero. Perché quando ha scoperto un punto, questo è il motivo che ha fatto un grande tempo nella seconda linea. Quando gli organizzatori ha dato il tempo che ha vinto, non è vero, non è vero. Oggi andiamo in equilibrato, stiamo preso, stiamo preso in pressione. Finalmente vengono qui. È stato buono che oggi inizia il primo? Sì, certo, non è buono. In alcuni temi, perché il punto di scoperto e tutto è difficile. Ma per noi abbiamo una buona esperienza, stiamo attacchiamo, non dimenticiamo tutto questo. Il nostro target è venire o nulla, e stiamo preso. E mi raccomando, quanto riguarda il track che oggi era sul l'altro? Certo, il track è bello, l'Italia Baja mi piace anche. C'è qualche tecnica, qualche river, qualche twisty, qualche torino. Mi piace quello che sta succedendo. Quindi ora hai il quattro vinto, come Pierlartigue. Dobbiamo vincere il record di Pierlartigue. Ok, aspettando per 2020-2024, potranno il trophy. Puoi darmi il trophy oggi, e mi raccomando che vincere il prossimo anno. Ma ti ricordi, devi rinforzare a noi, e poi vedremo. Ok, ok, grazie. Un'altra cosa, è importante avere Timo con te in questa gara? Sì, ho cominciato con Timo, la prima gara per me nel 2014, e ora con Timo con me, sicuramente abbiamo una buona connessione, e tutto va bene. e ora.